Ecco, quindi un capo molto allegro, molto vivace, il pantalone è il classico pantalone ampio, dritto, con una bellissima rifinitura che riprende la giacca, quindi sempre attenzione ai dettagli, il bottone madreperla ed è a taglio uomo, che è un taglio estremamente femminile secondo me, riprende proprio la forma, i dettagli del pigiama maschile, ma con un tessuto femminile, una stampa di piccole fette di angurio, poi una maglina morbidissima, veramente molto leggera, è molto morbida, è proprio bello, vediamo se si vede anche un po', è proprio carino, bello, e poi di proposito è spezzato, cioè c'è la fantasia sulla giacca e il pantalone invece tinta unita, questo è proprio bello. Ti faccio togliere un secondo la giacca, così facciamo vedere ancora il reggiseno, questo reggiseno è un reggiseno sempre di un brand italiano, di verdissima, ed è una novità per questa stagione, è una nuovissima coppa graduata, quindi è una imbottitura leggera ed è totalmente senza ferretto, è molto bello perché ha un tessuto a costina, ha una rifinitura in pizzo, è la cosa comodissima di questo reggiseno che sostiene, quindi segue molto la vostra forma senza avere nessun ferretto, quindi per chi non desidera il ferretto ci sono questi nuovi reggiseni disponibili anche fino alla quinta, quindi sono comodissimi, come lo senti Manu? Molto comodo, veramente, ha un bel sostegno, è bellissimo, ha una bellissima forma, i pantaloni del pijama a vita alta, perché i pantaloni a vita bassa non vanno più, quindi siamo tornati molto morbido, molto morbido, perfetto, mi sta proprio bene Manuè, ha questi colori pastelli, è bellissimo, Manuè ha una carnagione chiara, però vedete che questo colore vaniglia fa risaltare comunque un pochino la carnagione della pelle, quindi anche se lei è chiara non sembra bianchissima, e lo stesso lo giacca del pijama ha lo sfondo vaniglia, proprio per darle un po' di colore. Bene Manu, adesso presentiamo il secondo cambio, sempre intimo, con un'altra calza particolare. Perfetto, a tra poco. Ci vediamo tra poco. Ragazzi mi raccomando commentate, ditemi se vi piacciono gli outfit di Manuela, ditemi se vi piace quello che vi sto presentando, Daniele, ciao Daniele, ciao Paolo. Ecco, se volete mandarmi delle richieste per partecipare alla live, in questo momento non riesco a farvi partecipare per una live a due, però se avete qualsiasi domanda potete farmela messaggiando. Ciao Michele, ciao Serena, vedo che oggi la live è molto seguita. Allora, vi faccio rivedere la fantasia che ha indossato Manu, quindi Manu ha indossato il pijama di questa collezione, la rissura versione manica lunga, quello invece che ho qui, molto carino, guardate che bello, con tutte le nappine, con tutte le nappine. Questo è mezzo manica e ha il pantalone Pinocchietto, è bellissimo, è bellissimo. E' passata prima Lorenza, la mia cliente, che ha potuto vedere in anteprima tutti i capi che avrebbe indossato Manuela. E Lorenza, se adesso stai vedendo la live, questo pijama lo sto facendo vedere per te, che ti eri innamorata. Fatto così a Pinocchietto, perché non vuole un pantaloncino troppo corto, perché in casa adesso magari non fa ancora caldissimo. Se invece volete vedere una cosa che sia come un topo culottice, anche in questo modo. Vi faccio vedere vicino vicino il disegno, sono proprio delle piccole fette di anguria, molto carine.